C'era una volta in un luogo fuori dal tempo una piccola anima che dice a Dio io so chi sono ma è meraviglioso e dimmi chi sei chiese il creatore sono la luce il volto di Dio si illuminò di un grande sorriso è proprio vero tu sei la luce la piccola anima si sentì tanto felice perché aveva finalmente scoperto quello che tutti i suoi simili nel regno avrebbero dovuto immaginare oh mormorò è davvero fantastico ben presto però sapere chi era non fu più sufficiente sentiva crescere dentro di sé una certa agitazione perché voleva essere ciò che era torno quindi da Dio un'idea niente male per chiunque desideri essere chi è in realtà e dopo aver esortito con un ciao Dio domandò adesso che so chi sono fa bene se lo sono e lui rispose intendi dire che vuoi essere chi sei già beh una cosa è saperlo ma quanto a esserlo veramente insomma io voglio capire come si si sente nell'essere la luce ma tu sei la luce ripete Dio sorridendo di nuovo sì ma voglio scoprire che cosa si riprova piagnucolò la piccola anima e già ammise il creatore nascondendo a malapena una risatina avrei dovuto immaginarmelo hai sempre avuto un grande spirito d'avventura poi cambiò espressione però però c'è un problemino di che si tratta ebbene non c'è altro che luce vedi io ho creato solo ciò che sei e di conseguenza non posso suggerirti nulla per sentire chi sei perché non c'è niente che tu non sia valbetò la piccola anima che a quel punto faceva fatica a seguirlo mettiamola in questo modo spiegò Dio tu sei come una candela nel sole o esisti indubbiamente in mezzo a milioni di miliardi di altre candele che tutte insieme lo rendono ciò che è e il sole non sarebbe il sole senza di te senza una delle sue fiammelle rimarrebbe una semplice stella perché non risulterebbe altrettanto splendente e dunque la domanda è questa come fare a riconoscersi nella luce quando se ne è circondati eh protestò la piccola anima il creatore sei tu e scogita una soluzione lui sorrise di nuovo l'ho già trovata affermò dal momento che non riesci a vederti come luce quando sei dentro la luce verrai sommerso dalle tenebre e che cose sarebbero queste tenebre sono ciò che tu non sei fu la sua risposta mi faranno paura solo se sceglierai di lasciarti intimorire lo tranquillizzò Dio in effetti non esiste nulla di cui avere paura a meno che non sia tu a decidere altrimenti vedi siamo noi a inventarsi tutto a lavorare di fantasia ah se è così fece un sospiro di sollievo la piccola anima poi Dio proseguì spiegando che si arriva alla percezione delle cose quando ci appare il loro esatto opposto e questa è una vera benedizione affermò perché se così non fosse tu non riusciresti a distinguerle non capiresti cos'è il caldo senza il freddo né cos'è su se non ci fosse giù né veloce senza lento non sapresti cos'è la destra in mancanza della sinistra e neppure cosa sono qui e adesso se non ci fossero là e poi perciò conclude quando le tenebre saranno ovunque non dovrai agitare i pugni e maledirle si piuttosto un fulgore nel buio e non farti prendere dalla collera allora saprai chi sei in realtà e anche tutti gli altri lo sapranno fa che la tua luce risplenda al punto da mostrare a chiunque quanto sei speciale intendi dire che non è sbagliato fare in modo che gli altri capiscono il mio valore chiese la piccola anima ma naturalmente ridaglio dio è sicuramente un bene la mente però che speciale non significa migliore tutti sono speciali ognuno a modo proprio tuttavia molti lo hanno dimenticato capiranno che è buona cosa esserlo nel momento in cui lo comprenderai tu davvero esclamò la piccola anima danzando e saltellando e ridendo di gioia posso essere speciale quanto voglio oh sì e puoi iniziare fin da ora rispose il creatore che danzava saltellava e rideva a sua volta in che modo ti va di esserlo in che modo non capisco beh suggeri dio essere la luce non ha altri significati ma l'essere speciali può essere interpretato in vari modi lo si è quando si è teneri quando si è gentili o creativi e ancora si è speciali quando ci si dimostra pazienti ti vengono in mente altri esempi la piccola anima rimase seduta per qualche istante a riflettere ne ho trovati un sacco esclamò infine rendersi utili e condividere le esperienze e comportarsi da buoni amici essere premurosi nei confronti del prossimo ecco questi sono modi per essere speciali eh sì ammise dio e tu puoi scegli tutti o trovare qualsiasi altro modo per essere speciale che ti vada genio in ogni momento ecco che cosa significa essere la luce so so cosa voglio essere io so cosa voglio essere annunciò la piccola anima sprizzando felicità da tutti i pori e ho deciso che sceglierò quella parte che viene chiamata essere disposti al perdono non è forse speciale essere indulgenti oh certo assicurarò dio è molto speciale va bene è proprio quello che voglio essere voglio saper perdonare voglio fare esperienza in questo modo c'è una cosa però che dovresti sapere la piccola anima fu quasi sul punto di perdere la pazienza sembrava ci fosse sempre qualche complicazione che cosa c'è ancora ribatte con un sospiro non non c'è nessuno da perdonare disse dio nessuno era difficile credere a ciò che avevo appena udito nessuno nessuno ripete il creatore tutto ciò che ho creato è perfetto non esiste anima che sia meno perfetta di te guardati attorno solo allora la piccola anima si rese conto che si era radunato una grande folla tanti altri suoi simili erano arrivati da ogni angolo del regno perché si era sparsa la voce di quella straordinaria conversazione con dio e tutti volevano ascoltare osservando le innumerevoli altre anime radunate l'intorno non poteva fare a meno di dare ragione al creatore nessuna appariva meno meravigliosa meno magnifica o meno perfetta tale era il prodigio di quello spettacolo e tanta era la luce che si spingionava tutto intorno che la piccola anima riusciva a malapena a tenere lo sguardo fisso sulla moltitudine chi dunque dovrebbe essere perdonato tornò alla carica dio accidenti mi sa proprio che non mi divertirò mi sarebbe tanto piaciuto essere colui che perdona volevo sapere come ci si sente a essere speciali in quel senso la piccola anima capì in quel momento che cosa si prova a essere tristi ma un'anima amica si fece avanti tra la folla e disse non te la prendere io ti aiuterò dici davvero ma che cosa puoi fare ecco posso offrirti qualcuno da perdonare tu puoi certo posso venire nella tua prossima vita e fare qualcosa che ti consentirà di dimostrare la tua indulgenza ma perché per quale motivo chiese la piccola anima sei un essere di suprema perfezione puoi vibrare ad una velocità così grande da creare una luce tanto splendente da impedirmi quasi di guardarti che cosa mai potrebbe indurti a rallentare le tue vibrazioni fino ad offuscarla che cosa potrebbe spingere te che sei in grado di danzare in cima alle stelle e viaggiare per il regno alla velocità del pensiero a calarti nella mia vita e divenire tanto pesante da compiere questo atto malvagio è semplice spiegò l'anima amica perché ti voglio bene sentendo quella risposta lo stupore invase la piccola anima non essere tanto meravigliato piccola anima tu hai fatto lo stesso per me davvero non ricordi o abbiamo danzato insieme molte volte tu e io nel corso di tutte le età del mondo e di ogni periodo storico abbiamo ballato abbiamo giocato per tutto l'arco del tempo e in molti luoghi solo che non te ne rammenti entrambi siamo stati tutto siamo stati su e giù la sinistra e la destra il qui e la adesso e il poi e anche maschio e femmina bene e male siamo ambedue stati la vittima e l'oppressore ci siamo incontrati spesso tu e io in passato e ognuno ha offerto all'altro l'esatta e perfetta opportunità di esprimersi e di fare esperienza di ciò che siamo in realtà e quindi continuò a spiegare l'anima amica io verrò nella tua prossima vita e questa volta sarò il cattivo commetterò nei tuoi confronti qualcosa di veramente terribile e allora riuscirai a provare come ci si sente nei panni di colui che perdona ma che cosa farai domandò la piccola anima leggermente a disagio cosa farai da risultare tanto tremendo o rispose l'anima amica strizzando l'occhio ci faremo venire qualche bella idea poi soggiunse a voce bassa sai tu hai ragione riguardo a una cosa e quale sarebbe dovrò diminuire alquanto le mie vibrazioni e aumentare a dismisura il mio peso per commettere questa brutta cosa mi toccherà fingere di essere ciò che non sono e quindi ti chiedo in cambio un favore o qualsiasi cosa qualsiasi cosa gridò la piccola anima che intanto ballava e cantava riuscirò a perdonare riuscirò a perdonare poi si resse conto del silenzio dell'anima amica e allora chiese che cosa posso fare per te sei davvero un angelo sei così disponibile ad accontentarmi è naturale che sia un angelo interrompe dio ognuno di voi lo è e lamentatelo sempre io vi ho mandato solo angeli a quel punto la piccola anima sentì ancora forte il desiderio di esaudire la richiesta e chiese di nuovo che cosa posso fare per te quando ti colpirò e ti maltratterò nell'attimo in cui commetterò la cosa peggiore che tu possa immaginare in quello stesso istante dovrai rammentare chi sono in realtà concluse l'anima amica gravemente o ma lo farò esclamò la piccola anima lo prometto ti ricorderò sempre così come sei qui in questo momento bene commentò l'anima amica perché vedi dopo che avrò finto con tanta fatica avrò dimenticato chi sono e se non mi ricorderai per come sono potrei non rammentarmi per un sacco di tempo se mi scordassi chi sono tu potresti addirittura dimenticare chi sei e saremmo perduti entrambi e allora avremo bisogno di un'altra anima che venisse in nostro soccorso per rammentarsi chi siamo no questo non accadrà promise la piccola anima io ti ricorderò e ti ringrazierò per avermi fatto questo dono l'opportunità di provare chi sono quindi l'accordo fu fatto e la piccola anima andò verso una nuova vita felice di essere la luce e raggiante per la parte che aveva conquistato la capacità di perdonare attese con ansia ogni momento in cui avrebbe potuto fare questa esperienza per ringraziare l'anima che con il suo amore l'aveva resa possibile e in tutti gli istanti di quella nuova vita ogni qual volta compariva una nuova anima a portare gioia o tristezza specialmente tristezza ricordava quello che aveva detto dio rammentatelo sempre aveva affermato con un sorriso io vi ho mandato solo angeli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti